era annunciato non poteva mancare al carnevale di venezia il primo travestito da fleximan chi sei da dove vieni e come ti è venuta l'idea ovviamente allora sono andrea stocco vengo da cazzago vicino ad olo in provincia di pianiga e ovviamente mi è venuta in mente di travestirmi a flexime perché va molto di moda in questo periodo e la sua storia insomma la conosciamo tutti e quindi mi è venuto così l'equipaggiamento da fleximan cosa comprende allora un flessibile che è vero però ci ho messo un po di scotch in modo tale che non sia pericoloso poi qua ho messo un cartello dei veri autovelox l'ho stampato stamattina e poi basta una pettorina gialla e le scarpe gli scarponi ti manca l'autovelox però e però ci sono anche gli occhiali velocissimi perché la sicurezza prima di tutto perché non sia mai che mi vadano le cose negli occhi quando uso il flessibile ascolta tieni a sottolinearlo non sei il vero fleximan quindi polizia locale carabinieri non segnatevi sono solo uno a cui piace divertirsi e questa è la tua clac grazie 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 grazie